eccoci qua amici allora ho rotto questo salvadanaio grande 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 l'ho portato avanti fino alla fine dell'anno e per natale finalmente vi compro una bella penna una di quelle dai 200 euro attorno ai 200 euro allora sapete che sto facendo un pochettino questa comparazione per fascia di prezzo giusto per darvi un'idea siamo arrivati alla fine di queste quattro fasce dei 50 e 100 150 200 e cui mi fermo perché poi perché poi insomma si sale tanto di prezzo per alcune penne stilografiche e credo che la qualità e la piacevolezza della scoperta di un pennino finisca veramente sulla soglia dei 150 200 euro oltre ci paghiamo tante altre cose tante altre cose bellissime ma sono cose diverse dalla scrittura allora cosa troviamo con con questo con questi soldi possiamo cominciare allora comincio da una penna la pilot castro 74 con 180 euro mi porto a casa una delle penne più belle in assoluto sapete che a me piace molto il pennino soft fine e cosa abbiamo perché diciamo abbiamo una penna che si avvicina a questa soglia che è una soglia importante di 200 euro e la spesa che fa un appassionato 200 euro per chi come me è nato con le lire sono 400 mila lire era lo stipendio part time sono tantissimi soldi e 4 200 euro significa che l'appassionato punta al pennino punta alla penna punta a qualcosa cioè non sta più cercando una stilografica che può essere quella che così insomma la voglio provare mi piacerebbe provare qua esplorare un po il mondo aurora esplorare con il mondo caweco eccetera no io ho visto ho letto mi sono interessato mi piace quel pennino oppure mi piace la forma della pilot castro vale per la pilot heritage lo stesso solo stessi soldi la pilot capless una stilografica pulsante intrigante mi piace e quindi entriamo in un mondo per esempio a me questa penna si piace certamente quello che mi piace di più della castro 74 la linea dei pennini soft fine soft medium fine soft medium insomma ce n'è per accontentare tutti il pilot di misura 5 come questo è uno dei pennini più interessanti dal punto di vista della scrittura perché un pennino che è ancora ancora di medie dimensioni quindi poi secondo me è una mia opinione fra tutte le varie gradazioni dal 3 fino al 25 al 50 che sia è quello più più duttile più anche più amichevole primo da utilizzare meglio della di quello della falcon senza dubbio più intuitivo del pennino fa falcon quindi una bella penna al suo costo però certamente è una penna che può accontentare chi chi vuole e desidera quel tipo di scrittura non mancano i riferimenti in oro lo è il pennino nello è lo sono usati doratura queste piccole verette chiaramente aumentano anche gli ornamenti che come vedete cominciano a segmentare il fusto lo troviamo sul cappuccio lo troviamo a livello della clip cose che su penne più economiche non abbiamo certamente visto e notato il caricamento sapete che di questa pena un caricamento a cartuccia converter quindi non abbiamo meccanismi particolari salendo proprio i 200 li li attorno ai 200 abbiamo altre due penne che io non ho ma che vale la pena ricordare che sono una montegrappa palladio un'ottima penna bella penna e anche la visconti van gogh che è una di quelle senza dubbio rinomate e prestigiose ma restando nell'ordine dei 170 euro 180 euro abbiamo un'altra possibilità alla sailor pro gear slim che è una signora penna quindi un'alternativa sempre dell'altro colosso giapponese con un pennino in oro a 14 carati un signor pennino una signora penna e anche qui anche qui non stiamo parlando della sailor pro color della pilot prega cioè voglio abbordare il marchio sailor il marchio pilot perché voglio scoprire com'è qui stiamo parlando di qualcuno che vuole esplorare con cognizione di causa un pennino in una certa maniera o una penna fatta in questo modo perché magari ne ho già un'altra mi trovo bene e voglio approfondire l'argomento e allora cari amici traiamo un pochettino di conclusioni in questa carrellata velocissima se siete alle prime armi e state invidiando l'amico che nel forum oppure sul canale youtube dice che belle e queste penne da 200 euro ed ammazza che fortuna che ha ad avere quelle vorrei far passare come ultimo commento questo qua con una penna come questa da 20 euro anzi 19 nel momento in cui sto facendo il video sto parlando della cow eco sport avete una qualità caligrafica che non è affatto otto volte inferiore a questa no non è affatto otto volte inferiore a questa lasciamo da parte un pennino flessibile o elastico come quello della casa ma facciamo finta che sia un pennino fine un pennino medio questa va benissimo con 30 euro una lami avete un'ottima scrittura saliamo i 50 euro della lilliput per rimanere in cow eco ottima scrittura non vale affatto un quarto di queste non vale meno una cross a tx e poi di certo non vale meno una pelican che sia una 150 o una 200 che costa la metà di queste la qualità della scrittura è quasi la medesima ci mettiamo in mezzo sempre salendo una sailor 105 una sailor 1911 profit che costa 150 140 euro rispetto ai 170 di questa bella lo stesso il pennino identico in mezzo possiamo metterci fra tutte le varie proposte una parkerson e una waterman penne da 150 euro ma se vi piace scrivere siete interessati a questo ad affrontare il mondo della scrittura stilografica che spendiate 25 50 100 euro avete delle penne scusatemi strabilianti i 100 euro che sono un po lo spartiacque delle varie pelican che abbiamo provato vi danno delle qualità di scrittura che probabilmente anche se volete un giorno prendere delle penne più prestigiose e quindi anche più costose difficilmente abbandonerete perché un rapporto qualità prezzo così centrato difficilmente lo troverete e la mia indagine si ferma qui perché oltre i 200 euro si aprono anche penne che si aprono possibilità su penne che insomma hanno tanto nome tanto prestigio tanto marchio a volte dei prezzi persino lasciatemelo dire immorali detto questo perché non andiamo a dare uno sguardo al mondo del vintage all'usato quello di una volta dai so che ci sono tanti dubbi tante incertezze seguitemi nei video e vedremo di fare un po di chiarezza ciao a tutti